Ci salutiamo con la pallavolo, Modena Volley torna in campo sabato contro la Lube Civitanova Marca e un altro big match per il giallo-blu di Andrea Gianni. Vi lascio con il servizio di Filippo Marelli, buona visione, buon proseguimento di serata. Pronta un tour de force in campo e ad un colpo sul mercato per portare un nuovo schiacciatore in rosa. Il 2023 di Modena Volley è ovviamente già cominciato. Dopo un paio di giorni di riposo i giallo-blu sono tornati in palestra. Il calendario a gennaio propone un menù piuttosto ricco tra campionato e Copacev. In Superlega si parte 7 gennaio al Palapanini, c'è il big match con Civitanova. Poi domenica 15 trasferta a Milano, domenica 22 l'imbattibile Perugia-Modena e il weekend successivo trasferta a Cisterna. Poi si viaggia in Europa. Mercoledì 11 andata del primo turno dei play-off di Copacev nel nord della Germania, a Lüneburg. Mercoledì 25 il ritorno a Modena. La Valsa Group si affaccia al nuovo anno dopo l'uscita dalla Coppa Italia nella sconfitta del 28 dicembre contro Trento, un'impresa sfiorata che però ha confermato quanto a Modena sia cresciuta in questi mesi. In campionato l'obiettivo è difendere l'attuale terzo posto o comunque restare tra le prime quattro. In Copacev Modena vuole arrivare in fondo i polacchi del Belkatov e Piacenza le avversarie più pericolose. Poi c'è il mercato, ormai una necessità nel reparto schiacciatori. Dall'inizio della stagione di fatto la Valsa Group ha sempre giocato con Rinaldi in Gapet senza poter dar mai loro respiro né in una rotazione programmata né nel corso delle partite. L'arrivo del francese Mareschal non ha cambiato la situazione e soprattutto l'assenza di Pope è una costante da inizio anno. Quando sembrava che il giovane talento australiano fosse sul punto di rientrare è arrivato il recente infortunio al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni si faranno nuovi esami strumentali ma difficilmente sarà pronto a breve. Il direttore sportivo Casadei e il DG Sartoretti sono al lavoro da settimane per cercare un attaccante di posto 4. Di fatto stanno sondando tutti i campionati europei e non solo. Serve un giocatore pronto, meglio se di prospettiva, ma serve per l'oggi, per dare qualità in allenamento e per essere una credibile alternativa in partita.